Buonasera amici telespettatori, eccoci pronti a partire con A tutta di, la nostra trasmissione dedicata alla serie di Giro NB andremo a vedereci praticamente quasi tutti i gol di questo fine settimana, un fine settimana che ha cominciato sabato e terminato la sua corsa ieri pomeriggio e entriamo praticamente nelle ultime giornate di campionato tutti i gol, le interviste, i servizi per quanto riguarda le nostre formazioni e i commenti in studio sui risultati che sono arrivati manca ancora Luca Carminati pronto a rientrare la settimana prossima, un boccalupo ovviamente al buon Luca Carminati che si sta osservando da casa, lo avremo poi al telefono malea in tempi supplementari però qua con me c'è Paolo Picinelli che è tornato, ciao Paolo, buonasera a tutti eravamo fermi ancora due, tutti di fa che li hai ammalato, perché ormai c'è questa malattia che va avanti l'età non aiuta, ma anche i giovani non sono esenti di questa malattia stagionale allora andiamo a parlare proprio di Serie D, andiamo con i temi della giornata li commentiamo, ho messo Lumezzane e Stecca, l'Alcione non ne approfitta perché l'Alcione giocando il giorno dopo rispetto a Lumezzane aveva una grossa occasione, è andata bene a pareggiarla Breno vittoria e sorpasso rispetto alla furgole carattese Calepina colpaccio d'adro e Virtus e Ponte vittoria salvezza perché è 41 possono Paolo considerarsi salve? sì, direi proprio di sì allora, beh, il tema che più mi ha colpito è il primo giustamente perché tutta la giornata ruotava attorno alla sfida del Saleri tra Lumezzane e Desenzano e alla risposta del giorno dopo dell'Alcione contro il Seregno oggettivamente io non mi aspettavo la vittoria del Desenzano sapevo che era una gara difficile, non mi sarei mai aspettato che il Desenzano giocasse con quell'autorevolezza perché dagli highlights che abbiamo potuto vedere anche su internet la formazione di Tachinardi ha dettato le regole del gioco per lunghi tratti e ha resistito molto bene dopo il gol del vantaggio a metà del secondo tempo ma la risposta dell'Alcione che sembrava essere veramente alla portata anche per il tipo di avversario non c'è stata il Seregno addirittura si era portato sul 2-0 fortuna e bravura dell'Alcione di accorciare le distanze prima che finisse il tempo e poi nel secondo tempo è arrivato il gol del 2-2 ma è un'occasione persa, sicuramente hai fatto bene a dire che l'Alcione non ne approfitta perché il più 4 del Lumezzane a questo punto insomma è un vero peccato per la formazione milanese perché l'occasione era veramente ghiotta sì l'occasione era ghiotta perché è un conto a più 4 vuol dire che Lumezzane può perdere ancora una nelle ultime 5 sono 5 giornate che mancano può perdere ancora una e dunque può vincere le altre 4 sì però anche l'Alcione ha dimostrato di non essere esatto però la differenza tecnica a questo punto il campionato era nettissima io me la spesso era nettissima probabilmente stanno cominciando un po' a pagare anche loro questo campionato questo lunga rincorsa una con l'altra l'una deve sempre vincere l'altra deve sempre vincere è logorante a livello psicologico e anche fisico nonostante abbiano tutti quanti le panchine lunghe eccetera alla fine logora esatto e questi sono i due risultati che si sono notati di più anche se io non disegnerei perché attenzione al colpo del Breno contro la Folgo delle Caratese sai è un conto ti trovi in classifica dietro due punti da Folgo delle Caratese certo il colpaccio sarebbe vincere ma era importante non perdere e vai là e fai il colpaccio è un bel segnale di questi tempi il Breno è una delle squadre che secondo me nessuno ha voglia di affrontare perché è una squadra che non è neanche lontana parente di quella dell'andata che perdeva, perdeva male subiva gol dopo 30-40 secondi ed era molto fragile anche a livello psicologico oggi il Breno assomiglia molto al Breno dell'anno scorso magari non nel gioco perché il gioco dell'anno scorso era comunque il prodotto di 3-4 anni di gestione tecnica continua però è un Breno sicuramente che è tornato ai livelli consoni e a questo punto la salvezza diretta non è un miraggio qualche mese fa erano qui a dire ma è un'agonia invece adesso è un Breno che riesce comunque a superire anche alle essenze importanti ormai Ansaldi il portiere ha finito la sua stagione pare che anche Baschirotto abbia problemi fisici e non possa più giocare per carità c'ha italiani, non è che prendi il primo scappato di casa però Baschirotto era stato pesante però comunque hai un rincalzo importante Arma là davanti ha recuperato da quell'infortunio che abbiamo visto nella partita precedente e ha fatto secondo me una grandissima partita anche se non ha timbrato il cartellino quindi affrontare il Breno oggi a mio parere è veramente un problema per tutti e lo sarà anche per il Ciserano giovedì prossimo Prima di guardare la classifica chiedo a Frecci di dare ancora i risultati che andiamo ad analizzare questa giornata Paolo insieme abbiamo parlato soprattutto delle tre partite Alcione, Lumezzane e del Breno poi c'è altro, come ho detto C'è anche un Franciacorta Real Calepina che dal risultato non può passare inosservata La formazione di Marcos Gros sta avendo difficoltà sta vivendo un periodo difficile La Real Calepina, nonostante le voci che in settimana si sono rincorse di una fusione il prossimo anno con la Vito Ciserano Bergamo ha comunque tenuto bene il campo io ho visto gli highlights della partita è veramente stato un dominio della formazione bergamasca Vero è che il Franciacorta è in casa sempre un po' faticato però questo non deve sminuire i meriti della Real Calepina che ha vinto bene, ha vinto con autorevolezza e arrivando, perfino Sgro ha arrivato a dire i miei stanno mollando di testa però ha riconoscito anche il valore dell'avversario e i playoff di questo passo il Franciacorta rischia magari di non farli se non ingrana la marcia però la Real Calepina con questa vittoria mette un tassello importante in vista della salvezza diretta che comunque non è per niente facile Sì, poi adesso fra poco vediamo la classifica adesso la commentiamo più che altro per dire che era uscita questa voce della Real Calepina, visto il giornale quando la voce esce magari può essere ingrossata Puoi sapere cosa vi dico? Dacemi dire che la Real Calepina poco dopo è stata smentita proprio da Vescovi la stessa voce Allora, il giornale che ha pubblicato la notizia è Bergamo e Sport è un quotidiano molto conosciuto in provincia io conoscendo questo giornale che leggo tra tantissimi anni è un giornale che non ha mai voluto come dire, andare contro le società anzi, ha sempre instaurato ottimi rapporti con le società quindi il mio pensiero è se esce su Bergamo e Sport è perché comunque qualcuno gliel'ha detto perché loro non si permetterebbero mai secondo me di andare contro di far incazzare i presidenti o qualcosa del genere però se poi è stata smentita evidentemente vuol dire che comunque qualcosa c'era ma magari non a livello così avanzato come nell'articolo si ipotizzava Ricordiamo poi che era al Crepina sono usciti due o tre dirigenti piuttosto importanti l'ex presidente Lorenzi e poi anche uno di due scapuri sono usciti insomma questa potrebbe esserci non sarebbe niente di male bisogna trovare il nome Sì, infatti il nome anche perché le due realtà odierne sono il prodotto di fusioni, di fusioni, di fusioni eccetera ma al di là di tutto quando uno si fonde in un'altra società non metti insieme due forze e raddoppi il tuo potenziale normalmente si mettono insieme le realtà perché fanno fatica ad andare avanti per diventarne una ancora e diventano una ma normalmente non brillano quasi mai quindi vabbè adesso staremo a vedere ovviamente comunque onore di firma la smentita la comunichiamo la smentita proprio da Real Crepina che ringraziamo ovviamente ci manda sempre immagini e tutto per la nostra trasmissione la classifica poi facciamo quel girogol perché abbiamo 5 minuti di girogol per vedere tutti i gol di questo girone hai detto guardiamo la zona salvezza perché le prime due davanti prima guardiamo i playoff permettimi un attimo allora sappiamo che qua non c'è la forbice nei playoff non c'è per cui in questo momento Alcione, Casatese, Arconatese e Brusaporto andrebbero i playoff però attenzione Arconatese ha pareggiato con la Caronnese quindi non ha ottenuto un grande risultato il Brusaporto ha pareggiato a Varese idem con Patate Franciacorta che perde quindi l'unica squadra che nel gruppo diciamo della medio alta classifica sembra tenerci al playoff è il Desenzano perché anche la Varesina ha perso e quindi però se vediamo la zona playoff ci sono 6 squadre che si disputano 5 squadre che si disputano un paio di posti e a questo punto bisogna capire chi ha veramente voglia di fare il playoff Sì, vedendo la forma il Desenzano e soprattutto magari un Tacchinardi che continua a far crescere la sua squadra avrà anche voglia per arrivarci dentro a questi playoff e anche per il Desenzano sarebbe negli ultimi anni un po' steccati Il Desenzano oggettivamente è una realtà che è partita anche con grandi come dire grandi obiettivi magari non dichiarati ma la piazza e l'ambiente calcio si aspetta dal Desenzano grandi risultati Già Tacchinardi l'anno scorso a Breno parlava di playoff poi la squadra non c'è l'uscita però c'è andata veramente vicina ma Desenzano deve anche perché c'è un salò lì vicino che sta andando in serie B quindi insomma Desenzano non deve essere da meno quindi un risultato importante lo devo ottenere però al di là di tutto domenica anzi giovedì nella giornata infrasettimanale hanno l'alcione e questo sarà un altro test importante io sono convinto che Desenzano potrebbe potrebbe veramente fare i playoff perché è la squadra che in questo momento nelle zone della medio alta classifica mi pare quella un po' più in forma più determinata anche a livello mentale turno praticamente settimanale prepasquale per quanto riguarda la serie D queste sono le partite al commento sulla classifica o meglio sulla zona playoff lo facciamo dopo quando rientriamo questo è proprio il turno che andremo a vedere giovedì ma adesso abbiamo 5 minuti da dedicare a tutti i gol che ha curato Paolo Cinelli andiamo a vedereci tutti i gol allora giornata a punto spezzatino 4 gare il sabato e 5 la domenica si è cominciato con il derby bresciano tra Lumezzano e Desenzano decide l'incontro questo gol di B tiene molto bravo a gestire questo pallone scambio di testa con Credo Goglino un destro imparabile Filigheddu che è un bravissimo portiere non ci arriva ed è il gol della vittoria della formazione del Desenzano quindi grande esultanza motivata da parte di questo giocatore sempre in terra bresciana la Real Calepina fa un sol boccone della formazione del Franciacorta questo è il gol di partenza il primo gol di Chiossi siamo praticamente nel finale di primo tempo la difesa ha lasciato ovviamente come si può vedere qualche spazio anche in questo caso vediamo che la difesa è completamente fuori posizione permette al terzo minuto della ripresa a Duda di realizzare il gol del 2-0 poi arriverà alla mezz'ora anche il terzo gol ho voluto prendere l'immagine molto da lontano per far capire con quanta facilità gli uomini di capelli si sono presentati davanti al portiere ci sono giocatori liberissimi guarda qua nessuno va a marcare questo nessuno va a marcare Quarena a centrare quindi è un Franciacorta che aveva completamente mollato ogni regola e ogni tatticismo quindi un 3-0 assolutamente meritato la Folgore Caratese cercava punti importanti per la propria corsa salvezza ma il Breno era molto più determinato e questo è il gol di apertura di Daniele Brancato il colpo di testa è un po' il suo pezzo forte l'anno scorso ha fatto diversi gol di testa arriverà anche il 2-0 in chiusura di primo tempo grazie a Mondini che raccoglie quella che vedremo adesso la respinta del difensore mette giù la palla lascia partire una palombella a scendere il portiere forse è stato anche infastiguito dal sole perché proprio il sole era nella sua traiettoria ma un gran gol da parte del centrocampista ex Darfo per il 2-0 riapre la partita un quarto d'ora dal termine Gulinatti con questo bel tiro su cui il portiere all'olio nulla può però il Breno pur soffrendo nell'ultimo quarto d'ora porta a casa una vittoria fondamentale l'ultima gara del sabato è quella tra Coranese e Arconatese passa l'Arconatese qua in maglia bianca il gol dell'1-0 che porta la firma di Marcone siamo al minuto 65 però la Caronese ci ha abituato Arnaldo a non mollare mai nonostante l'ultimo posto in classifica e le difficoltà di una stagione tribolata ottiene un calcio di rigore a 5 minuti dal termine lo realizza Austoni mandando il portiere da una parte e la palla dall'altra ci trasferiamo alla domenica con la gara di Milano tra Alcione e Seregno partita che l'Alcione doveva vincere per potersi portare a meno 2 dall'Umezane ma a sorpresa il Seregno passa in vantaggio siamo intorno alla mezz'ora al primo tempo con Silenzi che è un po' l'uomo che spesso e volentieri risolve le partite questo è il gol del 2-0 firmato da Emerini un bel sinistro che non dà scampo al portiere siamo al minuto 39 però Bangal che è insomma uno degli uomini più importanti dell'Alcione su punizione prima che finisca il primo tempo a corso alle distanze e permette appunto alla sua squadra di affrontare il secondo tempo con maggior tranquillità qui il portiere la commette una cappella clamorosa su calcio d'angolo di Morselli non riesce ad allontanare il pallone se lo spedisce direttamente in porta per il 2-2 che sa comunque di mezza battuta dal resto per la formazione dell'Alcione qua siamo a Legler derby contro il Villavalle il Ponte San Pietro passa in vantaggio siamo nei minuti di recupero del primo tempo questo bel gol di Messina esatto che colpisce al volo a pochi passi dal portiere il 2-0 porta la firma di un giovanotto di belle speranze che si chiama Ferreira Pintolo vediamo farsi la sua bella fascia su questa azione di contropiede un bel destro portiere battuto e palla in rete per il 2-0 che permette al Ponte di vincere questa partita e di ottenere secondo me i punti salvezza anche se la matematica non arriva ancora diciamo a confermare questo risultato un'altra Bergamasca che vince è la Virtu Cirano Bergamo qui Belloli lascia partire un gran destro al minuto 11 e fulmina il portiere della Varesina per il gol del 1-0 prima che si chiude il tempo approfittando anche di una difesa piuttosto come dire distratta arriva il gol di Gritti siamo al minuto 39 per il gol del 2-0 la Varesina prova a riaprire la partita siamo al minuto 53 c'è questa azione un po' convulsa batti e ribatti la palla resta lì e alla fine finisce in rete con Gregov siamo al minuto 53 però poi il Ciserano riesce a mantenere questo risultato il Varese contro il Brusaporto culla per quasi tutta la partita il sogno di vincere la partita il gol di apertura è di Rossi bel calcio di punizione che non dà scampo al portiere ma quando il cronometro segna al minuto 89 e ormai pregustano tutti a Varese questa vittoria arriva il pareggio del Brusaporto vediamo il difensore che allontana in maniera piuttosto goffa proprio sul destro di Maspero che lascia partire un bel diagonale rasoterra e Priori che ha sostituito Moleri facendo anche delle ottime parate purtroppo nulla può su questa conclusione ed è un pareggio molto amaro per la formazione del Varese che a questo punto temo che farà molta fatica anche a guadagnarsi la qualificazione e il play out due pareggi amari nel finale a sette minuti della fine il portiere del Serenio per il Serenio con i due punti che erano pesanti due punti in più con il punto lì in classifica è questo che condanna un po' il città di Varese alla forbice ad oggi ci sono dieci punti quindi la forbice che è di otto sarebbe è abbastanza netta con un Varese che non dà segnali purtroppo neanche in cambio di De Paola insomma non c'è nulla da fare da pochi segnali questa squadra è in grossa difficoltà dopo tutto può succedere le ultime cinque giornate di campionato ci fermiamo primo break pubblicitario poi rientriamo partiamo un po' con i servizi con le interviste da Lumezzane dove sentiremo sia Tachinardi che Franzini per questo 0-1 a sorpresa se vediamo il risultato ma vedendo il gioco meritato del Desenzano pubblicità per ora e rientriamo proprio in diretta stiamo parlando di Serie D stiamo parlando del Girone B abbiamo commentato un po' i risultati fra poco poi commenteremo la parte bassa della classifica ma partiamo a vedere un po' di servizi abbiamo detto Lumezzane e Desenzano partita derby Bresano è vero che il Desenzano magari sembra abbia poco da chiedere però un derby è sempre un derby Desenzano che sta crescendo Lumezzane ha tanto da chiedere è arrivato questo 0-1 che tanti magari dicono avrà dominato Lumezzane il Desenzano ha fatto il classico gol e invece no vediamo il servizio con l'intervista prima di Tacchinardi e poi di Franzini assolutamente tanta soddisfazione in merito dei ragazzi che hanno fatto una grandissima partita soprattutto un primo tempo di grande qualità e faccio veramente complimenti perché è un risultato importante che dà un prestigio anche alla società voglio dedicare la vittoria del Presidente perché è tanti anni che non riesce a raccogliere le giuste soddisfazioni e venire qua e mincere 1-0 giocando anche secondo me un grande calcio nel primo tempo insomma vogliamo piccarli questa vittoria abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo però ci sta perché Lumezzane è una grande squadra abbiamo sofferto un po' la loro fisicità su questi palloni in area di vigore però devo dire che anche quando poi ci siamo abbassati abbiamo sofferto abbiamo sofferto con l'atteggiamento giusto da grande squadra è un risultato che insomma corona questo grande periodo che stiamo facendo che diamo continuità con i miei risultati importanti siamo arrivati a 43 punti che è la salvezza credo matematica è importante che i ragazzi adesso non si accontentino e da lunedì devo metterci sotto preparare la partita con l'alcione perché è una partita che determina un po' il nostro finale di stagione serve un po' come posso dire un po' un'assurdità mollare adesso acceleratore bisogna tenere il piede pesante adesso per accelerare per cercare di fare più punti possibili e ritagliarci delle belle soddisfazioni visto anche come siamo partiti poi nel giorno dell'andata sì il primo tempo ci hanno messo in difficoltà non siamo stati bravi nell'aggressione nella prima aggressione quando loro partivano e non abbiamo fatto una buona partita infatti nel primo e secondo tempo abbiamo sistemato due o tre cose che non ci stavano riuscendo e nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare tant'è che loro hanno fatto un ottimo primo tempo poi nel secondo hanno cominciato a rinviare col portiere e tutto il secondo tempo sono andati avanti così non hanno più giocato e nel momento migliore però nostro dove sembrava la partita che avessimo in pugno si era un po' ribaltata nel senso che noi riuscivamo a tenere la palla nella loro metà campo e poi con un ribio un po' a caso così un rimpallo ci è venuto fuori il gol però ci sta contro avversari comunque importanti non è che abbiamo perso contro una squadra che sono anni che prova che prova a salire e quest'anno ha trovato la quadratura in questo girone praticamente dall'andata contro di noi e sono partite equilibrate sono partite difficili fino alla fine ci sarà da soffrire come ho detto tante volte ci sarà da lottare c'è da lottare c'è da soffrire noi dopo ogni sconfitta abbiamo sempre fatto dei filotti importanti di vittoria compreso l'ultima mi auguro che sarà così anche questa volta che vorrebbe dire arrivare quasi in fondo quindi speriamo ripeto sono tutte tutte complicate tutte avversarie anche l'arconactese lì al terzo posto insomma sono avversari sono avversari che inizialmente avevano ambizioni di altissima classifica di stare davanti perché sono anni che fanno questo campionato e anni che sono lì davanti l'arconactese anche l'anno scorso l'ha condotto per buona parte ma mi interessa più la mia squadra e spero ritroveremo immediatamente già da inizio partita quelle che sono le nostre le nostre giocate e la nostra squadra ecco quindi quello mi interessa sì anche perché abbiamo visto due tempi diversi primo tutto il Desenzano secondo tutto il Lumezzano ovvio il Lumezzano si è buttato in avanti per pareggiarlo come abbiamo sentito dai due mister è quello che è uscito giovedì ci sarà il Desenzano che andrà a dar fastidio all'Alcione? in casa in casa il Desenzano contro l'Alcione dunque può tornare il piacere se gli ha dato un dispiacere il Lumezzano magari potrebbe tornare il piacere anche se poi il Lumezzano va arconate ma io credo che il Desenzano farà la sua partita perché è vero che il mister ha parlato di salvezza matematica però guardando la classifica non puoi accontentarti della salvezza ma punteranno anche perché la classifica dice che è possibile punteranno a conquistarsi un posto nei playoff e l'Alcione sa che affronterà un avversario veramente tosto il Lumezzano invece va a giocare contro l'Arconatese è vero anche qui Franzini ha detto una cosa giusta dopo una sconfitta il Lumezzano si è sempre prontamente rialzato e ha ritrovato la sua forza la sua vigoria l'Arconatese dopo il pareggio con la Caronnese dà quasi l'impressione che forse un po' la spina la stanno staccando però sai quando frutti la prima classifica vuoi sempre far vedere sei sempre l'Arconatese quindi non sei l'ultimo arrivato per cui sarà veramente un giovedì un giovedì tosto perché adesso mancano pochi i minuti alla fine all'Umezzano e bastano 4 vittorie diciamo bastano non è così semplice però con 4 vittorie avrebbe la matematica dell'accesso alla Serie C col Salò che potrebbe andare in Serie B sarebbe un anno importante ah per il calcio bresciano a parte il Brescia calcio che sta veramente fischiando giù diretto sarebbe veramente una bella una bella annata altra bella vittoria l'abbiamo detto l'abbiamo chiamata quella del Breno la squadra allenata dalla Soave fuori casa contro la Folgole Caratese è un successo pesante sarà come quello della Calipina che vediamo dopo adesso andiamo a vedereci invece Folgole Caratese e Breno sulle parole del Ministero Soave una vittoria meritata ma tanto sofferta negli ultimi 20-25 minuti dove la Caratese ha dimostrato quali sono i suoi doti di grande cuore di grande abnegazione di gamba di corsa ha riaperto la partita negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto ma a questo punto della stagione i punti valgono doppio per tutti ed è normale che si possa soffrire penso che però per un'ora abbiamo fatto veramente un'ottima partita una grande partita dove abbiamo meritato dopo i vantaggi abbiamo avuto anche altre occasioni purtroppo non l'abbiamo gestita benissimo alla fine però ripeto ci sono che gli avversari ci sta di soffrire faccio i complimenti ai ragazzi insomma nel ritorno stanno facendo veramente qualcosa di bello quando magari qualcuno non ci credeva più sappiamo anche che abbiamo fatto tanto tanto di bello ed importante che però non basta ancora quindi oggi ce la godiamo è una vittoria pesante molto pesante uno sconto diretto a tutti gli effetti esultiamo stasera e da domani si comincia a pensare già a quella di giovedì però devo veramente complimentarmi con loro perché da dicembre si sono rincompattati esultano tutti chi gioca chi non gioca queste sono belle cose mi spiace per chi non è protagonista in questo momento ma davvero mi spiace tanto perché tanti veramente meriterebbero di giocare perché si allenano tutti al 100% ma sono certo e sicuro che da quella fine la soddisfazione verrà per tutti quindi i complimenti vanno loro l'abbiamo preparata l'abbiamo preparata bene abbiamo fatto un'ora benissimo poi ripeto sono che gli avversari in questo campionato le partite sono tutte toste tutti a giocare i campi sono difficili ma vincere qui non era facile quindi bravo bravo il Breno bravo i miei ragazzi e andiamo avanti su questa strada Paolo due parole è vero che presto forse dovremmo aspettare a dirle però comunque dobbiamo dirle bravo il Breno a mantenere la calma con suave perché anche noi l'abbiamo chiamato il cambio io personalmente ti dico io il cambio non mi permetto mai di farli io e Carmi onestamente avevamo quasi chiamato il cambio la squadra aveva veramente tante 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 difficoltà aveva un attaccante Righetti che era improponibile per la categoria ma non lo dico io lo dicono le sue prestazioni e anche a livello difensivo c'erano molti molti errori molte problematiche con una campagna invernale molto mirata sono divati Rashid Arma davanti che ha risolto i problemi e ha dato anche un po' di come dire di sostegno e di coraggio anche ai centrocampisti e dietro con Baschirotto la squadra è completamente cambiata ha acquisito autostima ha acquisito valore forza tecnica forza mentale e questi sono i risultati bravi a mantenere noi commentiamo quello che vediamo non è che partiamo con delle idee preconcette una piazza sappiamo fra la Valcamonica e noi comunque una piazza piuttosto che ascolti o non ascolti però la piazza Boliva sono stati bravi e andare avanti con questo mister che è una brava persona e posso dire un bravo all'Olio speriamo che faccia il finale ha fatto una parata è entrato un anno quasi senza mai giocare sempre a panchina eccetera e da due partite che è dentro e non abbiamo visto errori la parata nel finale che ha dato tre punti pesantissimi forse qualcuno più sul gol poteva fare complimenti all'Olio questo ragazzo che l'anno scorso poteva diventare titolare poi alla fine poteva anche demoralizzarsi invece finora sta rispondendo bene e questo per il Breno è molto importante a cinque giornate a fine del campionato andiamo a verci la vittoria del Calepina 3 a 0 in quel di Adro contro il Franciacorta le parole di Uncappelli rinfrancato da questa prestazione ha funzionato davvero tutto quindi trovare un qualcosa che non ha funzionato forse i primi minuti forse i primi minuti anche se abbiamo abbiamo giocato e provavamo a giocare forse abbiamo commesso qualche errore in uscita lì sicuramente possiamo dobbiamo stare attenti perché poi basta un errore e la partita può cambiare volto per il resto abbiamo fatto davvero una partita importante i ragazzi avevano lavorato bene in settimana quindi da quel punto di vista lì ero abbastanza tranquillo e sono molto molto soddisfatto perché ai ragazzi serve anche a volte una risposta di questo genere perché so che lavorano bene tante volte il risultato non rispecchia quello che che fanno i ragazzi in settimana quindi la risposta c'è stata soprattutto rispetto alla prestazione che avevamo fatto con il Brusa Porto che non c'era piaciuta in tutti i termini e quindi oggi ci prendiamo tutto prestazione punti atteggiamento di tutti da German da Dennis che entra al ragazzo a Duda che dall'inizio fa una grande partita e tutti quanti ho preso i due esempi più vecchio e più giovane quindi per Duda siamo doppiamente contenti perché è un ragazzo che io lo definisco col sangue agli occhi e quando gli dici che deve entrare in campo quasi piange dalla felicità e dalla voglia che ha quindi è un premio che che si è meritato è un 2004 pesante che stando una grossa mano a questo era anche la Pina Duda beh in generale i giovani della regola che sono sono obbligatori se hai un 2004 forte cioè hai fatto bingo hai fatto bingo perché te lo tieni per altri paio d'anni e questo a quanto pare è veramente un ragazzo promettente prima di vedere il prossimo turno e andare a analizzare anche la zona bassa della classifica chiudiamo con il servizio di Paolo Zerbi l'altra Bergamasca la Virtus 6-0 vittoria importante con Don Varesina che attenzione è una squadra sempre temibile serviva questa vittoria come al ponte perché è so a 41 vedendo poi la classifica la vedremo ha staccato tanto e può considerarsi salva la formazione del Prato vediamo servizio Paolo Zerbi Sul campo di Ciserano la Virtus e la Varesina si sfidano per quella che è una sfida playoff molto importante soprattutto per i Bergamaschi la squadra di Del Prato deve fare a meno di Caraffa e Panatti non due qualunque e in avvio provano ad affidarsi alla spinta sulla corsia a Mancina da parte di Viscardi la difesa della Varesina fa muro e contiene in qualche modo le Fenici rispondono con buona qualità in ripartenza per un avvio di gara davvero dai ritmi alti Gasparri prima non trova tedesco poi gioca in scarico su Poesio che cerca e trova sul secondo palo Reiana il colpo non è perfetto Cavalieri smanaccia in corner ma la Virtus risale e quando sono da poco scoccati dieci minuti Belloli raccoglie e spara un tracciante meraviglioso che si infila là dove Spada Vecchia non può arrivare è il gol dell'1-0 che toglie un po' di Gioarri in un'azione appena dopo il gol del vantaggio ma le Fenici non crollano e reagiscono sfiorando il pari con una deviazione di Bernardi sugli sviluppi di un calcio piazzato dall'altra parte proprio sui piazzati vacilla un po' la difesa di Spilli ma la deviazione di Gioarri è imprecisa aumenta la spinta varesina tedesco di rabbia strappa un pallone che carambola sul sinistro di Orejana rasoiata sul primo palo si allunga Cavalieri e salva il risultato Orejana è acceso presente ispirato il 10 dribbla scappa va via e serve in area Gasparri murato sul tapin arriva botta sicura poesio traversa clamorosa puntuale come sempre la legge più antica del calcio corner dall'altra parte e Gritti si infila tra le maglie larghe della difesa e infila in porta per il 2-0 che è forse troppo ma specchio del cinismo dei padroni di casa e della distrazione degli ospiti con l'immagine alla ripresa la Varesina parte col piede sull'acceleratore per cercare di riaprire la cross di Grieco testa di Tedesco che non riesce a dare forza ma pizzica la parte superiore della traversa la spinta è forte e gol arriva Orejana centra in area ne nasce una mischia risolta di rabbia dall'ultimo tocco di Gregov Cavalieri dopo quello del pallo non riesce ad evitare che il pallone finisca in porta ci credono le finici che ci provano con questo diagonale col mancino da parte di Schiepati dal limite dell'area che però come vedete termina largo Varesina che ha predominio territoriale di possesso e ci prova anche con qualche cambio ma paradossalmente le forze fresche non riescono a incidere in avanti allora la Virtus in ripartenza a calciare in porta prima con Vitali poi con Pellegrini in entrambi i casi Spadavecchia alza il muro nel finale una protesta dalla panchina viene sanzionata con Rosso Aspilli Rio secondo il direttore di gara di essere responsabile della condotta della sua panchina non la prende benissimo l'allenatore delle Fenici che dovrà saltare sicuramente la sfida col seregno delicatissima per questa lotta playoff che si fa sempre più avvincente la salvezza diretta è alla portata lasciami dire due cose oggi è terminato il torneo di Viareggio l'edizione 2023 l'ha vinta il Sassuolo che ha bissato la vittoria dell'anno scorso ha battuto in finale il Torino 2-1 ma la rappresentativa di Serie D ha fatto un'ottima figura perché ha superato il primo turno ha battuto anche il Benevento poi ha perso contro il Torino ma insomma si è fatta onore anche quest'anno davanti a comunque ecco Sassuolo e Torino sono forse le uniche due formazioni di nome di nome che se non arrivate hanno partecipato a questo Viareggio la mia classifica Felix perché siamo in una chiusura per vedere questa classifica io ho detto allora da 41 ormai quasi più davvero guardano i playoff che la zona playoff c'è una spaccatura tra Vito Ciserano e Seregno che è importante Ciserano può puntare i playoff ovviamente ancora quattro partite per farlo Seregno punta la salvezza diretta Seregno Villa Valle in questo momento salve Real Calepino o Breno una salva tramite la forbice con la città di Varese e l'altra andrebbe a fare i playoff con la folgo e le caratese in questo momento sarebbe questa la situazione però è difficile dire come sarà perché a cinque giornate alla fine è un punto probabilmente ogni giornata adesso ne vedremo dobbiamo muoverci domenica per domenica perché qui bastano veramente poco per cambiare le classifiche e siamo in chiusura è giovedì andiamo proprio questo è il turno invece della domenica del 16 ma giovedì a Breno ci sarà Alta Sala ci sarà Breno Virtus Cicerano partita importante che noi seguiremo all'andata vinse il Breno 2-1 questo è il turno appunto invece del 6 Breno Cicerano con la tese Lumezzana e queste sono le partite con Varese a Porta San Pietro e via mentre sul 16 praticamente quando si tornerà dopo la Pasqua il Breno andrà nel derbico Franciacorta Franciacorta che speriamo sia quello visto in un'ultima giornata un po' demoralizzato ci sarà Cicerano Desenzano e poi vedremo questi scontri che analizzeremo nei prossimi lunedì sempre con a tutta di grazie per averci seguito voi siete spettatori grazie ci ha portato tutte le immagini grazie Paolo grazie a voi noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre con a tutta di fra poco tempi supplementari con tutto l'altro calcio grazie a voi